Massacrato di botte in un appartamento in corso Umberto I in pieno centro storico ad Eboli. Protagonista della terribile vicenda, Aniello Langella, 43 anni, barista di Torre Annunziata, dove gestisce la paninoteca Picnic, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Savoia Calcio. L'uomo che ha precedenti penali, secondo gli inquirenti, è stato vittima di una rapina. Una volta raggiunto con la moglie l'appartamento occupato da cinque ucrani, due adulti, due adolescenti e un bambino piccolo, è stato immobilizzato e legato ad una sedia per poi essere colpito al volto con una cazzottiera. Langella ha riportato fratture multiple al viso e altre ferite al collo e alla mano sinistra, ritenute meno gravi. A salvare il 43enne trovato dai sanitari del 118 agonizzante sul pavimento, le urla della moglie, che precipitatasi sul balcone, ha attirato l'attenzione delle persone che erano in strada. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e i vigili urbani. Il responsabile del sequestro di persone e delle lesioni gravi, secondo le prime indagini, dovrebbe essere un ucraino di 43 anni, ex militare dell'esercito, descritto nel quartiere. Come un uomo muscoloso. Di recente, lo straniero avrebbe preso anche in gestione un bar al centro di Eboli. Dalle 13 di ieri pomeriggio, i carabinieri stanno cercando l'Ucraino e gli eventuali complici del pestaggio, che secondo la testimonianza dei negozianti della zona dovrebbero essere due. I carabinieri hanno ascoltato anche la moglie di Langella per provare a far luce sulla vicenda, che presenta contorni decisamente oscuri. Il 43enne, dopo aver ricevuto le prime cure mediche nel nosocomio di Eboli, ieri, nella tarda serata, ha firmato le dimissioni e ha raggiunto l'ospedale Cardarelli di Napoli, accompagnato dai familiari.